Ciao e benvenuto da Matteo Bricchi. In questo tutorial, che ho chiamato Antique Television, vedremo come comporre in modo creativo due fotografie, ottenendo un risultato sorprendente. Se vuoi imparare Photoshop in modo facile e divertente, sul mio sito, matteobricchi.com, puoi trovare il mio videocorso completo su Photoshop CS6. Bene, iniziamo! In questo tutorial, vedremo come combinare queste due immagini insieme per ottenere questo risultato finale, dove sicuramente, grazie anche alla posa della ragazza, sembra quasi che sia intrappolata all'interno di questo televisore d'epoca. Bene, vediamo come procedere. Per prima cosa, dobbiamo includere una fotografia all'interno dell'altro documento. Possiamo farlo selezionando la ragazza, facendo clic destro in uno spazio vuoto del livello di sfondo e selezionando Duplica livello. Come destinazione, impostiamo l'immagine 19 TV, diamo l'OK e vediamo apparire il livello in questo documento. A proposito, quando avete due immagini aperte per vederle in questo modo, si può selezionare il comando Finestra, Ordina, 2 in verticale. Stesso discorso se fossero 3, 4 o più. Bene, a questo punto l'immagine si può chiudere e tramite il tasto F possiamo passare alla modalità Tutto Schermo. Disattiviamo momentaneamente la visibilità di questo livello tramite l'occhio per creare una selezione che segua il contorno dello schermo della televisione. Purtroppo in questo caso nessuno strumento automatico di Photoshop ci aiuta perché l'immagine è un po' sfumata in questa parte, non c'è molto contrasto e facendo qualunque prova non si riesce ad ottenere un buon risultato. Dovremmo quindi crearla quasi manualmente. Partiamo utilizzando lo strumento di selezione rettangolare e creiamo una selezione grossolana all'incirca di questo tipo facendo leggermente uscire gli angolini sulla plastica dorata. Andiamo poi a selezionare il comando Selezione, Trasforma Selezione. Attiviamo la trasformazione libera tramite questa icona qui in alto e andiamo a muovere queste manigliette cercando di far combaciare i bordi della selezione con i bordi dello schermo, più o meno in questo modo. Così e così per ogni lato. Chiaramente io vado abbastanza velocemente è importante essere precisi. A questo punto diamo l'invio per confermare la modifica ed entriamo nella modalità Maschera Veloce tramite questa icona o tramite il tasto Q per modificare gli angoli. Lo facciamo con lo strumento Pennello assicurandoci di avere il nero come colore di primo piano. Clic destro, un pennello con durezza intorno all'80% può andare bene diamo l'invio e andiamo ad agire all'interno dell'immagine disegnando manualmente gli angoli. Chiaramente con una tavoletta grafica il risultato è decisamente migliore rispetto al lavoro con il mouse. Comunque con un po' di pazienza possiamo ottenere qualcosa di buono. Bene, a questo punto sempre tramite il tasto Q usciamo dalla Maschera Veloce riattiviamo il livello e trasformiamo la selezione in Maschera tramite il pulsante Aggiungi Maschera di Livello. Dobbiamo ora ridimensionare la fotografia in modo che stia completamente all'interno dello schermo. selezioniamola prima di tutto dopodiché utilizziamo il comando trasformazione libera. Dobbiamo prima però togliere il link cioè questa catenella tra livello e maschera. Non facendolo infatti verrebbe ridimensionata anche la maschera. Faccio una prova CMD-CTRL-T per la trasformazione libera in questo modo anche la maschera viene ridimensionata perdendo la sua efficacia. Premo ESC per annullare tolgo la catenella di nuovo CMD-CTRL-T tengo ora premuto il tasto SHIFT per mantenere le proporzioni e non deformare la fotografia. Più o meno in questo modo andando poi a riposizionarla al centro e premendo INVIO per confermare la modifica. Andiamo ora a modificare un po' la maschera per renderla più realistica. Doppio clic su di essa per aprirne le proprietà e selezioniamo Bordo maschera. Tramite questi comandi possiamo leggermente modificarne il suo contorno. Con la visualizzazione decidiamo come vedere l'anteprima. Possiamo vederla su sfondo bianco su sfondo nero o sui livelli che in questo caso è la scelta migliore perché ci permette di vedere il risultato finale. Direi prima di tutto di dare un po' di sfumatura intorno agli 8-9 pixel può andare bene e poi di spostare un pochino il bordo verso l'interno circa almeno 50-60 può andare bene. Confermiamo con OK e chiediamo le proprietà. In questo caso le modifiche sono state apportate in modo definitivo ai pixel della maschera. Bene, dobbiamo ora rendere un po' più realistica l'integrazione dell'immagine nello schermo. Possiamo farlo tramite dei metodi di diffusione. Essi infatti controllano l'interazione tra un livello e quello sottostante. In questo caso possiamo selezionare il metodo sovrapponi che dà un po' di trasparenza lasciando intravedere ciò che sta sotto. Questo perché provo a spegnere un attimo il livello la televisione ha uno schermo di vetro con dei riflessi in questo caso si vede la mia immagine riflessa che sta scattando la fotografia e per rendere l'effetto finale più credibile è meglio mantenere parte di questi riflessi un po' come quando guardiamo una televisione di fianco a una finestra e vediamo i riflessi di luce. Bene, dicevamo riattivo il livello il metodo sovrapponi sicuramente dà trasparenza e contrasto però ci fa perdere anche un po' di luminosità. Andiamo a recuperarla duplicando il livello trascinandolo quindi sull'icona nuovo livello ed impostando questa volta il metodo scolora. Provate a immaginare una stanza buia con due proiettori che proiettano la stessa immagine contro lo stesso muro una esattamente sovrapposta all'altra. Bene, questo è l'effetto che dà lo scolora quindi somma la luminosità dei due livelli. In questo caso l'effetto è troppo intenso andiamo a regolarne l'opacità intorno al 60%. In questo modo la foto resta ben visibile e vediamo i riflessi più chiari che proseguono all'interno dello schermo. Bene, occupiamoci ora dell'effetto antico che vogliamo ottenere lo facciamo aggiungendo un livello di regolazione bianco e nero. Possiamo volendo regolarne i parametri concentrandoci solo sull'immagine perché tra poco andremo ad utilizzare una maschera per limitarne l'effetto. Quando siamo contenti del risultato chiudiamo le proprietà tenendo premuto il tasto alt clicchiamo e trasciniamo questa maschera sul nuovo livello. Vogliamo sostituirla? Sì. In questo caso però dobbiamo andare a modificarla leggermente perché la sfumatura lascia intravedere un po' di colore quindi di nuovo doppio clic sulla maschera bordo maschera questa volta diamo un po' di contrasto per renderla un pochino più netta e spostiamo il bordo verso l'esterno cercando di vedere l'effetto bianco e nero che arrivi esattamente fino al limite più o meno così diamolo ok e chiudiamo le proprietà. A questo punto per il mio gusto l'immagine è un po' troppo fredda un po' troppo bianca e nera questo dà molto nell'occhio perché l'intera fotografia ha un colore abbastanza caldo quindi secondo me è opportuno scaldare anche lo schermo lo facciamo con un livello di regolazione bilanciamento colore andando ad aggiungere un pochino di rosso e un pochino di giallo a mezzi toni e ad alte luci in questo modo rendendo il tutto un pochino più integrato nella scena anche in questo caso tasto alt premuto copiamo la maschera appena creata la sostituiamo ed otteniamo direi un buon effetto l'ultimo tocco potrebbe essere quello di aggiungere un pochino di grana per dare un effetto retro lo facciamo in un modo estremamente professionale aggiungendo un nuovo livello tenendo premuto però il tasto alt per aprire il menu delle sue opzioni e selezionando direttamente il metodo diffusione a sovrapponi mettiamo poi la spunta su riempi col colore neutro grigio 50% quando si tratta di bianco e nero infatti il metodo sovrapponi funziona in questo modo il grigio 50% risulta completamente trasparente qualunque gradazione più scura scurisce in trasparenza ciò che sta sotto qualunque gradazione più chiara schiarisce in trasparenza ciò che sta sotto vediamo come utilizzarlo chiamiamolo grana perché andremo ad aggiungere appunto della grana diamolo ok selezioniamo il menu filtro disturbo aggiungi disturbo impostiamo la distribuzione su gaussiana e il metodo monocromatico un valore di 12 pixel e mezzo è un pochino alto ma abbiamo sempre la flessibilità dell'opacità quindi per adesso può andare bene diamolo ok e proviamo a vedere come funziona questo livello se è reimposto il metodo anormale vediamo un grigio 50% modificato da tanti puntini un pochino più chiari e un pochino più scuri che con il metodo sovrapponi in trasparenza andranno a schierire e scurire ciò che sta sotto dando questo effetto granuloso anche per questo livello chiaramente dovremo aggiungere una maschera andremo a scegliere quella associata alle fotografie che è un pochino più sfumata e segue l'immagine se no andremo ad aggiungere grana anche in questo bordino cosa che non vogliamo fare quindi tasto alto premuto clicchiamo e trasciniamo la maschera sul livello grana in questo caso nessuna conferma è richiesta perché il livello non aveva una maschera associata bene direi che questo può essere l'effetto finale con il tasto F possiamo passare alla modalità tutto schermo per apprezzare il nostro lavoro per apprezzare per apprezzare per apprezzare